Pecco, 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 Pecco. Forza Bagnaia? Ce la fa Pecco? Ce la fa, ce la fa, doppietta. Dopo il contatto con Alex Marquez ad Aragon, Pecco Bagnaia è indietro in classifica nel moto mondiale di 23 punti rispetto a Jorgen Martin, diventa decisiva ai fini della classifica finale, la gara del fine settimana a Misano, il gran premio della riviera di Rimini e di San Marino. Ma prima del moto mondiale Bagnaia ha ricevuto il calore e il supporto dei propri tifosi che si sono presentati a Tavuglia per la festa dedicata ai piloti della VR46 Academy. Tifosi che credono che Bagnaia possa risalire la china e conquistare il terzo titolo mondiale. Sentiamoli. Nonostante la caduta di Aragon ce la può fare? Siamo fiduciosi, Pecco è Pecco. Pecco è già tutti, lì si è iniziativa. Sobito! Ce la fa lo stesso Pecco? Pecco ce la fa sempre. Vai Pecco! Stasera vi farete sentire un po' il vostro calore, no? È ovvio, siamo qui apposta. Come stai per la gara secondo te? Adesso chiaro che fino a domenica... Oggi ancora non troppo bene, però altri due giorni prima di... Arrivare a domenica e si spazia. Ce la può fare Pecco? Ce la fa, ce la fa! La situazione non è semplice, però no, ci sono ancora... Ce la può fare, gioca in casa, ce la fa, ce la fa! Siete fiduciosi per queste ultime casi? Sì, sì, crediamo che possa far bene. Li battiamo tutti questi spagnoli.